La Città di Belluno Sua Eccellenza Marangoni ha colto l'occasione per ricordare anche l'impegno per l'Italia e la preghiera a sostegno della società civile, nonché il ruolo che il cristianesimo ha oggi giorno all'interno della società. Al ritorno in cattedrale tutti i fedeli assieme hanno recitato la preghiera di Papa Giovanni Paolo II per l'Italia e ricevuto la benedizione del Vescovo Renato Marangoni. Una giornata di festa speciale per tutta la comunità bellunese.